Amici di Youtube, bentrovati da Marco Liguori, avviso importante, qualora questo video dovesse superare i 300 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, lasciate il vostro piace adesso per avere subito online un nuovo video di Marco Liguori, un vecchio monito a Seriva nei paesi arabi. I ladri vengono amputati in Italia, i ladri vengono fatti deputati e con questa frase che apro questo video, parliamo dell'azione più vile che un essere umano possa compiere quella del furto, la rapina, tutto ciò che concerne la sottrazione in debita, il protagonista di questo video, di questo racconto non è uno sbandato, non è un povero, è un cantante miliardario, ebbene sì, il famoso cantante dei Tiro Mancino, Francesco Zampaglione, che ha cantato con suo fratello Federico fino a qualche anno fa, ripeto, il fratello del cantante principale dei Tiro Mancino, Francesco Zampaglione, che fino a qualche anno fa cantava con il gruppo, si è reso protagonista di un gesto davvero folle, ha tentato una rapina in banca per la precisione a Roma, quartiere Monteverde, quartiere che conosco benissimo, successivamente il cantante si è dato alla fuga, ma è stato arrestato davvero in tempi veloci, facciamo i complimenti alla polizia di Roma, alla polizia di Monteverde, infatti la fuga è durata davvero poco, si è scoperto che il cantante aveva una pistola giocattolo, amici di Youtube, questo fatto mi lascia incredulo, quando l'ho letto non credevo ai miei occhi, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo incredibile racconto della rapina, tentata poi finita male da parte di Francesco Zampaglione, fratello di Federico Zampaglione dei Tiro Mancino, un cantante, quindi si suppone non abbia problemi economici, eppure ha tentato, il colpaccio ha tentato, la rapina in banca laddove il furto, qualunque cosa che sia relativa alla sottrazione in debita è qualcosa di davvero deprecabile, onestamente odio i ladri se una persona mi ruba qualcosa con me ha chiuso per sempre, se dovesse andarle male, se dovesse venirmi il quarto d'ora, non avrà soltanto il mio disprezzo, avrà anche altro amici di Youtube, va bene tutto, ma rubare è davvero meschino, e scrivete nei commenti cosa ne pensate, volevo lasciarvi con un aforisma, questa volta non sarà di un grande psicologo o di un grande luminare della scienza della medicina, un americano, un inglese, parliamo del grande Totò, il grande Totò diceva, gli avvocati difendono i ladri, sa com'è, tra colleghi, si aiutano, io vi ringrazio per l'attenzione, ricordo che a 300 like realizzerò immediatamente un nuovo video, quindi non esitate, lasciate il vostro mi piace, mettete il like al video di Marco Liguri, commentate su questo commento, su questo video e su questo canale siete voi i protagonisti, perché l'autore del commento più bello viene salutato in diretta, con questo è davvero tutto, io vi amo, buon proseguimento su Youtube.